La squadra mobile ha tratto in arresto un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, già noto per i suoi precedenti giudiziari, mentre transitava a bordo di un'autovettura. A seguito della perquisizione del mezzo, i poliziotti hanno sequestrato 10 panetti di hashish per un peso complessivo di 1 kg. Nella fase del controllo, il giovane aveva tentato di distrarre gli agenti, riferendo che doveva recarsi subito al lavoro per alcuni appuntamenti già programmati. La sostanza stupefacente analizzata dalla polizia scientifica, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 10.000 euro. L'arresto è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla procura della Repubblica di Caltanissetta. Il giudice per le indagini preliminari all'esito dell'interrogatorio di garanzia ha convalidato l'arresto operato dalla polizia di Stato ed applicato la misura della custodia presso il domicilio con il braccialetto elettronico. Grazie.